Il rapporto con il gallerista, il curatore, gli addetti ai lavori, a me piace pensarlo facendo un passo indietro nel tempo, mi piace pensarlo in un clima di bottega, mi piace pensarlo in un clima di confronto. E' chiaro che la galleria e il curatore sviluppano una linea, che è una linea da un lato di mercato, da un lato di significato e da un lato di giustificazione. Penso anche alle correnti artistiche che ci hanno detto che i critici andavano messi al bando. Il pensiero più vero che mi arriva è questo, il critico mi piacerebbe sostituirlo con lo storico dell'arte. E vorrei che lo storico dell'arte potesse aiutarti a farti vivere l'aspetto sociale del mondo in cui vivi. A farti cogliere situazioni, atteggiamenti in un contesto. Il gallerista mi piace pensarlo come colui che sperimenta una linea di mercato, come colui che azzarda in contemporanea con te una linea di mercato non per gioco ma per scommessa. Con quali termini non ne ho idea, probabilmente è un'utopia, probabilmente è un pensiero fantasioso. Ma sarebbe interessante avere una sorta di bottega dove ci possa essere l'artista, lo storico dell'arte, lo storico dell'arte, il gallerista. Un termine caro a Warhol che di mercato e di critica ci ha insegnato tante cose, una sorta di factory. Ecco, proprio una bottega, un ritorno quasi al mestiere. Io faccio, tu leggi insieme a me e tu porti fuori da questa bottega quello che stiamo realizzando. e il confronto diventa un confronto olistico, no? Si miscela tutto. Questo è quello che mi viene da pensare se metto in confronto queste tre figure. La domanda però era, è cambiato il rapporto tra l'artista, il gallerista e il curatore? Nel tempo è cambiato, è una tua esperienza. Questo che mi ha detto è interessantissimo, però prova a darmi una risposta su questo. Qual è e qual è stato il rapporto tra queste tre entità? Sicuramente è cambiato, penso alle guerre di Cézanne, Zola, penso nello stesso periodo a Martelli, con i Macchiaioli. Non c'era la via del commercio, c'era la via dello scrivere e della guerriglia letteraria. Io dipingo, tu mi critichi, il gallerista vende. Non credo che sia cambiato troppo, credo anzi che le famose squadre siano sempre molto coese, molto forti. La critica oggi spesso è figlia delle gallerie e gli artisti sono figli delle gallerie. È chiaro che noi, in cuor nostro, vorremmo arrivare tutti a una galleria che riesce a vendere il segno a un milione di euro. Credo che sia stata sbagliata. Credo che i rapporti sono cambiati tantissimo per una questione di mercato, per una questione economica e il gusto di scrivere, il gusto del confronto, si è fermato ai primi anni 50. Il boom economico di quegli anni ha fatto sicuramente variare i rapporti tra queste tre entità, generando dei vuoti incredibili, generando dei picchi economici artissimi, penalizzando dei picchi di elevata, rara sensibilità artistica da parte di sia critici inventati, sia di galleristi alla ricerca di capitali e pseudo-artisti. Faccio un confronto con questa terra bergamasca. Questa terra bergamasca ha avuto dei galleristi che io non ho conosciuto, che hanno vissuto l'azzardo, hanno vissuto sicuramente il mercato, ma si sono inoltrati in una giungla. E a Bergamo sono arrivati a Fontana, è arrivato Burri, Crippa, oggi ci sono dei galleristi molto attenti, dove girano comunque artisti interessanti. Io penso questo. Penso che in questa terra bergamasca ce ne sono di artisti, di virtuosi, che vivono nel loro studio, che pensano nel loro studio e che sognano nel loro studio. Abbiamo dei contenitori, brutto termine, ma per farci capire, importantissimi, che a mio parere devono essere aperti, devono essere aperti al confronto, che i critici, i curatori importanti, guardino all'interno del territorio, aprono il confronto con i giovani, con generazioni diverse, con gli artisti anziani, mettere insieme le competenze, ma soprattutto i sogni, in una terra come questa bergamasca, dove c'è una grandissima tradizione legata anche alla tecnica, al mestiere, e c'è una grandissima voglia di costruire nuovi linguaggi. Lo vediamo con quelli che sono i musei, le attività che nascono, le fondazioni. Quindi ecco, guardiamo il territorio. Grazie a tutti, Grazie a tutti.